I nomi della rosa. Al secondo giorno di scrutini spuntano i candidati del centrodestra. C'è l'opera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Non penso che nessuna delle tre abbia una tessera ripartito in tasca. Nomi che vogliamo proporre e non imporre, riteniamo di averne il diritto, dicono all'unisono Salvini, Meloni e Tajani. In realtà, accanto ai tre formalizzati nell'incontro con la stampa, ne vengono evocati come equidinabili altri due, lo stesso Tajani e la Presidente del Senato casellati. Come risponde a questa mossa il centrosinistra? I leader di PD, Movimento 5 Stelle e l'EU avevano posticipato il loro vertice in attesa delle parole del campo opposto. Svelati i nomi, la prima replica di Enrico Letta è stata all'insegna del fair play. Nomi di qualità che valuteremo senza pregiudizi. Conte nega che il centrodestra abbia diritto di prelazione nell'avanzare candidature e ribadisce a proposito di Draghi il suo punto. Non si cambia timoniere nella tempesta. Due, infatti, sembrano gli schemi di gioco in atto. Il centrodestra, attrazione salviniana, che con la rosa dei nomi fatti ed evocati oggi e ancora di quelli coperti, prova a fare breccia nella centrosinistra, dividendolo. L'altro forno aperto è la larga convergenza su Draghi, strada che passa dal complicato editing di un nuovo governo. Draghi che oggi non si è mosso, a differenza di un altro quirinabile fin qui rimasto inabissato, che ha fatto una mossa social, postando sui social una foto da giovane militante, rimarcando la sua passione per la politica, quasi ad opporla al profilo tecnico di altri contendenti. Sullo sfondo, molto sullo sfondo, a Montecitorio si consuma quasi nell'indifferenza il rito della seconda votazione, che sta per concludersi e che approderà un'altra fumata nera, frutto di molte schede bianche.